13.000 km di fibra ottica e investimenti per 8 milioni di euro per cablare 23.000 unità immobiliari con tecnologia Fiber to the Home. Il Comune dell'Aquila e Open Fiber insieme per la firma della Convenzione. Da gennaio 2018 infatti inizieranno i lavori per la posa della fibra ottica, targata Open Fiber, nel Comune dell'Aquila. Partiremo subito, non appena saranno pronte tutte le procedure. Noi con questa Convenzione semplifichiamo di molto tutte le autorizzazioni. Quello che mi preme sottolineare è che questo progetto anticipa di molto i tempi rispetto a quanto Open Fiber avesse previsto l'intervento sulla città dell'Aquila. È un pezzettino importante della città dell'innovazione che noi vogliamo realizzare per renderla non soltanto facile da vivere ma anche attrattiva nei confronti di chi vuole venire a investire. La fibra con questa nuova tecnologia arriverà direttamente nelle case dei cittadini, potenziando la velocità di navigazione e rendendola superiore a quelle disponibili attualmente sul mercato. La trasmissione dei dati potrà raggiungere 1000 megabit al secondo, sia in upload che in download. Aumenteranno i servizi e le possibilità, telelavoro, telemedicina e commerce. Il termine dei lavori è previsto per la primavera del 2019. Intanto abbiamo anticipato i tempi di oltre un anno per le attività di cablatura della città dell'Aquila. Questo proprio perché la nostra rete, che è una rete fatta al 100% in fibra, dalla centrale fino a casa di ogni singolo cliente, servirà per abilitatore a tutte le altre attività di completamento, di smart city, vedete quelli che sono i progetti in campo, che abbiamo anche qui come sperimentazione sul 5G e quindi abbiamo deciso insieme all'amministrazione, che ci ha stimolato da questo punto di vista, ad anticipare di oltre un anno le attività. I tempi saranno di circa un anno e mezzo, inizieranno a gennaio del 2018 e così completeranno entro la primavera del 2019.